Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato a non c'era inferiore circa 140 kg di sigarette di contrabbando, denunciato un quarantenne originario della provincia di Bari. In particolare i finanzieri del gruppo di Nola durante un controllo su strada hanno fermato l'autovettura condotta dal contrabbandiere e hanno eseguito un rapido controllo scoprendo diverse casse di sigarette del tipo Chip White, marchio Regina. Le stesse erano abilmente occultate sotto un'infrastruttura telonata scura e coperte all'interno dell'abitacolo. Questo ulteriore risultato è frutto dell'intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio che nella circoscrizione del gruppo di Nola si conferma particolarmente caratterizzato da traffici leciti in vari settori. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS